Dopo il primo successo del metodo Studi di Ritmica Jazz di Rosfera Marsalis stampato dalla BMG Distribuzione Ricordi, Rosfera Marsalis e Riccardo Zegna presentano Seminari Jazz Music, il secondo metodo completo per batteria, impostazioni, tecnica, rudimenti, studi e scomposizione sul piatto lettura per Big Band, con i tempi 4 quarti, 3 quarti, 7 quarti, 5 quarti, bossa, rudimenti, Fusion, trappongono CD per batteria e mini file per tutti gli strumenti in genere. Ed ora anche con la novità del metodo numero 3, Advanced Technical Exercise for Bubble Pedal, esercizio di tecnica avanzata per doppio pedale. Potete trovare i seguenti metodi in tutti i negozi di strumenti musicali o contattarci ai seguenti numeri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. S corają gli strumenti di dezomai Jun ci settimane ricordi, a ballastroke, simple ballastroke with the right hand with the circle you can have a tap and then brush on the two tap on the three four one together one two three 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 four one stroke in the center right right two four there one two three four one oh that one I use with a one two three four one two three four one three three you could also use a half circle one and two and three and four and one and two and three and one and two and four and one that's the best one you could use just for the legato flow the other one would be what I call the S-book it looks like tap two three there's a hook down here which becomes one every other bar one two three four one on the drum it's somewhat like this one two three four one two three four three four one you're doing something like my shit two three and two three four three two 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 three 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 two one e anche la melodia è molto importante a lot of people è molto difficile per la ballad perché non senti non so che non vuoi non vuoi color che non vuoi ma è un buon disciplina e anche che non vuoi che non vuoi e anche che non vuoi che non vuoi non vuoi non vuoi non vuoi ma questo è un poido l'opportunità che non vuoi il colore 1 2 3 3 4 5 5 6 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 18 18 19 20 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 21 20 21 21 21 22 22 23 24 25 25 25 ... or a free policy based on triplets one triplo, 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 triplo so you only have two the same as you have in six then we have the other stroke we call multiple bound stroke this is where your flex comes in you have this flex and the idea is you squeeze and follow the brush down so you can get two, two, three, four, three four, five then you have the nerve then you try to do the conversation but that works okay, so you have this now there's a what is very easy this is a message that shows that's more staccato I use what I call my Zara so I can use it as a model when I use that with this those are some basic strokes those are some basic strokes can use a property but I can use it as an eagle and then I use this to work in a